Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sala rossa della sede municipale, simbolicamente è stato consegnato l'assegno di 20.649 euro, frutto della raccolta dei punti della carta socio della Copp Consumatori Nord-Est. All'incontro erano presenti gli assessori dei comuni di Porcia e di Fiume Veneto, oltre al presidente del distretto sociale della Copp, Damiano Rigo, e al consigliere Renato Simboli. Il coprogetto Alimenta il Sapere tra i soci cop e cinque comuni ha consentito di realizzare un'iniziativa di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà, mediante l'acquisto di materiale scolastico di consumo. L'assessore alle politiche sociali del comune di Pordenone, Vincenzo Romor. Lo scopo di questa coprogettazione è quello di raccogliere un quantitativo di punti rilasciati alla fine del percorso spesa fatto all'interno dei negozi della cooperativa Nord-Est e alla fine la somma di questi punti si sono tradotto in una quantità di denaro che viene devoluta per un sistema di aiuto alle famiglie bisognose per quanto riguarda i bambini dell'età scolare iniziale.